Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare, non solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana e delle persone private della libertà. E questo anche io lo collego con l'ergastolo. Il Vaticano, poco tempo fa, nel codice penale del Vaticano, non c'è più l'ergastolo. L'ergastolo è una pena di morte coperta. Così Papa Francesco, in un ampio e dettagliato discorso, rivolto ad una delegazione di giuristi dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, nel quale ha sottolineato che il rispetto della dignità umana deve operare come limite all'arbitrarietà e agli eccessi degli agenti dello Stato, come le esecuzioni extragiudiziali, la carcerazione preventiva o senza condanna, la tortura, le pene crudeli. Ma deve operare anche come orientamento per la repressione di forme di criminalità che ledono la dignità della persona e il bene comune, come la tratta delle persone e la corruzione. Il Papa ha denunciato come oggi alcuni settori politici e mezzi di comunicazione incitino alla violenza e alla vendetta pubblica e privata, non solo contro chi commette delitti, ma anche contro chi è solo sospettato di aver infranto la legge. Gli strumenti legali non impediscono che alcuni vengano incolpati per i problemi di tutti. Non solo si cercano capri e spiatori, ma si costruiscono deliberatamente dei nemici, figure stereotipate, con meccanismi simili a quelli che permisero l'espansione di idee razziste. E c'è la convinzione, ha proseguito il Papa, che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, senza sforzarsi di porvi rimedio, con un altro tipo di politica sociale, economica ed inclusione sociale. Si è affievolita la concezione del diritto penale come ultima razio, come ultimo ricorso alla sanzione, come anche il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative. Per questo, ha spiegato Papa Francesco, la missione dei giuristi deve essere quella di limitare e di contenere tali tendenze, anche di fronte alle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società. Quindi, ricordando che la Chiesa rifiuta la pena di morte, ha denunciato che le esecuzioni extralegali commesse da alcuni stati sono omicidi deliberati. Grazie. 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 Grazie.